Giovedì 22 settembre sono le 19.37. Allora io inizio il mio rapportino di questa settimana che in realtà inizia da sabato scorso perché sabato sono stato invitato all'assemblea annuale di confedilizia e la materia principale di interesse era la stabilizzazione della detrazione fiscale ecobonus. Era presente il vice ministro Morando e quindi il mio intervento si è basato sulla necessità di confermare quanto già votato all'unanimità e quindi tre anni di detrazione fiscale continuativa. Quindi finalmente per la prima volta avremo tre anni di detrazione fiscale del 65% sugli interventi edili che vanno a migliorare l'efficienza energetica quindi dal classico cappotto al cambio dei serramenti al miglioramento dell'isolamento sul tetto alle pompe di calore agli impianti solari termici quelli per l'acqua calda eccetera alla caldaia condensazione eccetera eccetera. Quindi finalmente avremo tre anni e questo significa che finalmente i condomini potranno muoversi cosa che fino ad oggi non potevano fare avendo solo un anno di tempo ma in un anno di tempo non si riesce a mettere d'accordo tutti i condomini scegliere il fornitore e iniziare i lavori in maniera da avere la fattura in mano. Ora come detto più volte all'unanimità è passata una mozione che dovrebbe diventare legge usiamo il condizionale per prudenza però essendo passata all'unanimità su proposta tra l'altro su concertazione con proprio il viceministro Morando dovrebbe essere confermata cosa che ha ribadito Morando sabato all'assemblea di confidilizia ma non solo dopo aver anch'io o meglio dopo aver nel primo intervento io chiesto l'estensione della detrazione anche agli interventi di consolidamento antisismico consolidamento antisismico e la preoccupazione di trovare una soluzione per quanto riguarda gli incapienti in buona sostanza gli incapienti sono coloro che non hanno un reddito sufficiente per poter poi approfittare della detrazione fiscale se io nella mia dichiarazione dei redditi ho zero redditi cosa detrago? se faccio 10.000 euro di spesa di edile per l'abitazione per migliorare l'efficienza energetica o il consolidamento antisismico ma appunto non ho tasse da pagare quindi non posso detrarre nulla chiaramente il beneficio non mi è assolutamente utile quindi sono lieto di ribadirvi basta che controlliate i giornali poi di domenica scorsa che Morando non solo appunto ha confermato i tre anni di stabilizzazione dell'ecobonus ma ha anche lui propugnato l'idea di estenderli al consolidamento antisismico di favorire il far sì che i due interventi avvengano assieme contemporaneamente perché sarebbe antieconomico fare un intervento in un periodo X per quanto riguarda l'efficienza energetica e poi farne un altro in un periodo differente per quanto riguarda il consolidamento antisismico è molto più economico nel momento che io ci metto mano all'edificio fare le due cose assieme quindi Morando ha preso ulteriormente questo impegno pubblicamente ripeto davanti all'assemblea di confedilizia ovviamente con videoregistrazione disponibile per chiunque voglia vederla non da parte mia ma da parte della confedilizia che appunto era lì con anche telecamere in maniera da registrare tutto detto questo che è importantissimo è assolutamente importantissimo perché con questa manovra rimettiamo in piedi la filiera Ediver e lo ha ribadito lo stesso Morando ridiamo l'infa finalmente a una filiera che negli ultimi anni è stata decisamente agonizzante si parla di mezzo milione di posti di lavoro perso ritorniamo qui in commissione noi martedì abbiamo fatto un'ennesima audizione per quanto riguarda quel famoso fenomeno di improvviso innalzamento del prezzo del dispacciamento che è una componente della bolletta elettrica abbiamo audito i grossisti i trader dell'energia i quali hanno portato le loro motivazioni e le loro opinioni io sono intervenuto e quindi anche in questo caso trovate il video perché le audizioni normalmente sono pubbliche questa lo era quindi c'è il video appunto di martedì pomeriggio sono intervenuto dicendo che non mi convince molto la loro spiegazione ed è la verità perché loro si sono appellati al fatto che il mercato ha bisogno della possibilità di fare dei guadagni per gli operatori certamente sì ma io ho ribadito che un conto è un guadagno diciamo così onesto in un momento determinati limiti un conto è un innalzamento improvviso dei prezzi che si moltiplicano di 10-20 volte 30 volte 10-20 30 volte questo assolutamente non è un fenomeno a mio avviso compatibile con una tenuta del sistema alla lunga in tre mesi abbiamo pagato un miliardo in più o meglio forse si pagherà in più perché in bolletta c'è adesso c'è la decisione del tribunale della Lombardia di sospendere questa parte di aumento questo aumento e la vicenda non è ancora finita quindi si vedrà chi dovrà pagare sicuramente in questo momento i debitori siete voi, siamo noi siamo tutti i normali cittadini italiani quindi vedremo alla fine come andrà quale sarà la decisione finale della Corte di Cassazione in merito detto questo io ho denunciato invece con un post, un articolo, un comunicato stampa un conflitto di interessi che è avvenuto all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico in buona sostanza il Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto degli incontri con un'azienda privata la Arthur D. Little che è una famosa azienda che fa consulenza per quanto riguarda la ristrutturazione di alcune società pubbliche ora non esiste una gara di appalto con cui il Ministero abbia deciso di appaltare appunto questi lavori l'Arthur D. Little ha sì vinto un appalto ma l'ha vinto concernente un altro oggetto un altro oggetto è come se io mettessi in appalto il fatto che qualcuno mi venga a sistemare il giardino e poi quando è lì che mi sta sistemando il giardino gli dico beh guarda visto che ci sei buttami giù la casa e ricostruisci me la da capo da zero buttala giù e ricostruisci è tutta un'altra cosa è tutta un'altra cosa quindi abbiamo chiesto spiegazioni su questo che secondo noi è un conflitto di interesse bello e buono il Ministero doveva limitarsi a conferire con questa società limitatamente all'oggetto dell'appalto una semplice questione di legalità così come è una semplice questione di legalità il fatto che abbiamo denunciato la candidatura del nuovo direttore dell'ISIN e qui ci vuole il titolo il titolo è ci stanno provando ancora dopo che l'anno scorso li avevamo bloccati perché il Presidente del Consiglio aveva nominato come candidato un soggetto che non possedeva dei requisiti tecnici richiesti dalla legge non richiesti dal Movimento 5 Stelle richiesti dalla legge noi denunciamo che non aveva questi requisiti non è un discorso di morale non è un discorso di etica non è un discorso personale assolutamente quel candidato fu diciamo così sospeso forse per la nostra denuncia forse perché due settimane dopo si aprì un pesante capo di accusa nei suoi confronti da parte di un giudice che ipotizza dei reati abbastanza abbastanza gravi abbastanza pesanti perché questa persona aveva comunque degli incarichi pubblici e appunto è partito un'indagine a suo carico e quindi ripeto forse per la nostra denuncia forse per la denuncia del giudice la sua nomina venne sospesa e tenuta nel frigorifero per un anno e intanto gli italiani aspettano tenuta nel frigorifero per un anno adesso c'è un'ulteriore nomina e ancora una volta viene nominata una persona un avvocato che quindi non ha quei requisiti di curriculum di studio richiesti dalla legge che chiede delle competenze tecnico-scientifiche ripetiamo cosa è l'ISIN l'ISIN è il soggetto pubblico che deve verificare coordinare lo smantellamento delle centrali nucleari e soprattutto la costruzione messa in sicurezza dei rifiuti nucleari parliamo di rifiuti radioattivi estremamente pericolosi quelli di terza categoria che sono i più pericolosi dureranno 200.000 anni come pericolosità quindi stiamo parlando di materiale estremamente pericoloso la legge prevede che il direttore abbia dei requisiti tecnici qui non è una questione personale non ce l'abbiamo con nessuno non è una questione di giudizio personale la legge pretende questi requisiti finché la legge è in vigore secondo noi va rispettata secondo il PD sembra proprio di no secondo di noi le leggi certamente se non si è d'accordo si può provare a cambiarle chi vince le elezioni può provare a cambiarle se ha la maggioranza in quel momento nelle votazioni in Parlamento le cambia però finché la legge è in vigore va rispettata questa è la nostra semplicissima opinione mi dispiace verificare ancora una volta il Presidente del Consiglio e una larga fetta dei colleghi del Parlamento non abbia questa opinione secondo noi la legge finché c'è va rispettata punto ultima cosa ci vediamo a Palermo ci vediamo a Palermo domani pomeriggio partirò anch'io avrò un brevissimo intervento per quanto riguarda l'energia assieme ai colleghi Cioffi Crippa e Martelli che brevemente così esporremo quella che è un po' la situazione attuale e ovviamente le nostre idee per il futuro dopodiché mi sono iscritto ad altri 5 agora nel mio sito portavoce girotto trovate gli orari di queste agora vediamo se velocemente perché in effetti non le avevo eccole qui turismo perché vorrei dire due parole sullo sviluppo dell'agricoltura nel senso turistico quindi affiancare quello che hanno fatto già tanti affiancare un'attività di agriturismo ma non solo non solo si può pensare un progetto più complessivo agricoltura e turismo farli fondere in maniera più efficace possibile parlerò del riciclaggio del denaro sporco perché come sapete è da tempo che mi occupo di banche e purtroppo non lo dicono io ma lo dicono i rapporti ufficiali più grande è la banca e più vi è il pericolo non la matematicità non l'automaticità però più grande è la banca più vi è il pericolo che possa riciclare del denaro sporco parlerò velocemente anche di quanto riguarda i brevetti in maniera da far chiarezza una volta per tutte cosa significa aver brevettato un oggetto in maniera che nessuno di voi cada in inganno e l'uscita dell'Inghilterra della Gran Bretagna dalla Brexit ha determinato pesanti conseguenze anche per quanto riguarda la COP21 la famosissima COP21 con la quale ci saremmo impegnati a ridurre le emissioni di CO2 e a contenere il rinanzamento della temperatura nei due gradi quindi una robetta proprio come si direbbe sciocchezzuole per salvaguardare per salvare noi stessi da catastrofiche conseguenze e un ultimo agorà a cui mi sono prenotato riguarda riguarda lo sviluppo di Industria 4.0 la rivoluzione industriale e la rivoluzione robotica su questo chi ha piacere ad agosto ha fatto due video per quanto riguarda la rivoluzione industriale la quarta rivoluzione industriale eccoci qua c'è stata l'interruzione e aspetto qualche secondo per dar modo a chi vuole di collegarsi così concludo ero proprio in fase conclusiva stavo dicendo che l'ultimo agorà a cui parteciperò è quello sulle opportunità legate alla rivoluzione industriale e alla rivoluzione robotica ho affrontato l'argomento ad agosto con due video che se avete piacere li trovate nel mio sito personale nel mio sito personale anzi li trovate sia nel mio sito personale che in quello ufficiale c'è in alto la indicazione la cartellina documenti c'è proprio l'indicazione scritta documenti nella sezione documenti si aprono molte cartelline in quella dell'energia c'è appunto industria 4.0 e lì ci sono le indicazioni con i due video in cui parlo di questo argomento che secondo me è centrale perché andiamo sempre di più verso una ingerenza della robotica in una serie di applicazioni che si estenderanno sempre di più perché diventano sempre più intelligenti tra virgolette capaci queste queste macchine collegata con la connessione di tutta la parte tutta la filiera attraverso internet quindi la parte produttiva che sarà sempre collegata con la logistica che sarà sempre collegata con la parte commerciale che sarà sempre collegata con la clientela quindi questi quattro soggetti tutti i soggetti della filiera saranno sempre interconnessi tra di loro e questo permetterà tutta una serie di sviluppi che al momento diciamo l'unico limite è la fantasia il tema centrale naturalmente sarà quello di mantenere i posti di lavoro non farci rubare i posti di lavoro dalle macchine le macchine ci dovrebbero aiutare ma non certo sottrarre i posti di lavoro allora una serie di dati di numeri di situazioni di come si stanno preparando gli altri paesi li ho enunciati in questi due video e ieri guarda a caso c'è stato l'annuncio del ministro Calenda per quanto riguarda appunto il pacchetto agevolativo Italia 4.0 che si riferisce a Industria 4.0 arriva con 2-3 anni di ritardo piuttosto che niente meglio piuttosto adesso naturalmente lo esamineremo quando usciranno nei dettagli perché per il momento sono uscite le slide con una serie di discorsi e una serie di promesse poi vedremo quando effettivamente avremo l'ufficialità delle varie misure inserite bene io terminerei qui su Calenda avevo un'altra cosa da dire che riguarda il patent box che effettivamente non l'avevo messo nella portina perché l'ho fatto proprio questo pomeriggio alle 16 Calenda ha risposto a una mia interrogazione per quanto riguarda il patent box che è un regime fiscale agevolativo per chi deposita brevetti marchi software e altro tipo di know-how allora i numeri ci dicono che avendo aggiunto a differenza degli altri paesi avendo aggiunto anche i marchi la situazione non è buona perché per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo perché il brevetto come molti di voi sapranno significa che io ho scoperto qualche cosa di nuovo faccio un'invezione a seguito di attività di ricerca il marchio invece semplicemente sono i loghi questo è un marchio il marchio Nike Coca-Cola Life is Good Fruit of the Loom eccetera eccetera quelli sono solo diciamo così delle creazioni artistiche che diventano dei marchi ma non sono ricerca e sviluppo industriale ora i dati dimostrano che noi stiamo incentivando moltissimo le grandi multinazionali le grandi società perché queste sono venute in Italia per approfittare dello sconto fiscale per registrare dei marchi però nella pratica l'obiettivo che doveva essere quello di agevolare di spingere la ricerca industriale per le piccole e medie imprese ecco questo obiettivo non è stato assolutamente raggiunto e questo non lo dice Girotto non lo dice il Movimento 5 Stelle lo dice anche la Commissione Europea che ha a approfittare appunto dello sconto fiscale non c'è stato viceversa un aumento reale dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico ecco con questo vi ho detto veramente tutto questo questo scambio di battute questa risposta all'interrogazione è stata trasmessa dalla RAI come ogni giovedì pomeriggio perché le interrogazioni a risposta orale vengono trasmesse in diretta a RAI ovviamente sul satellite e su internet e quindi probabilmente anzi sicuramente ci sarà anche la registrazione negli archivi a partire dai prossimi giorni ma in buona sostanza la questione è questa se vogliamo incentivare ricerca e sviluppo dovremmo fare di più e meglio rispetto a quanto è stato finora con questo pacchetto agevolativo dal nome inglese tanto per cambiare patent box perché farli in italiano evidentemente è meno figo è meno cool e quindi staremo sotto anche per quanto riguarda questo aspetto ci vediamo a Palermo e con questi con questi consuntivi settimanali ci vedremo giovedì o venerdì prossimo grazie e buona serata a tutti